3. Finché. Che cos'è che crea l'illusione? Commento. È la condizione umana. Ma chi è che crea l'illusione? È l'io. È la visione egoistica dell'esistenza. 4. Che cosa produce l'illusione? La presunzione della libertà, che nella condizione umana non ci appartiene, perché abbiamo una sola libertà, quella di errare al fine di comprendere. 5. Ma è sempre l'io che crede di errare. Perché l'io ha bisogno di crearsi l'illusione? Perché ha bisogno di assoggettare il mondo? 6. L'essere come si può liberare dall'io? L'io si sgretola sotto i colpi della coscienza. Allora l'illusione non serve a niente. No! Serve per avanzare nell'evoluzione finché ci incarniamo nella condizione umana.